Sicilia è terra di tradizioni, isola mitologica dai mille volti. Dall'8 al 16 ottobre la città di Catania ospiterà i campionati mondiali di schermo. Sono stati presentati oggi il programma e le prospettive della 73esima edizione della manifestazione, inclusa in un'iniziativa della regione Sicilia, che mira a promuovere il turismo sull'isola tramite la scherma e lo sport. Vengono da 130 paesi i 1100 atleti impegnati per otto giorni sulle pedane siciliane. In contemporanea si disputeranno anche i mondiali per diversamente abili, con 300 schermidori di 30 nazioni. Tutti in gara per un titolo e un posto alle Olimpiadi di Londra del 2012, come Elisa Di Francisca, che ritiene i mondiali una gara importante per poter affrontare i giochi inglesi al meglio. Per arrivare alle Olimpiadi con maggiore consapevolezza. A me Parigi ha dato tanta consapevolezza e convinzione in più. Spero di arrivare a Londra sempre così.